Se gli unici rumori che vuoi sentire quando rientri a casa sono il canto degli uccellini, le cicale, immerso nel verde e nella natura, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa billetta in vendita. Siamo a Santa Lucia nel quartiere residenziale di fronte alla chiesa e qui si trova questa billetta d'angolo disposta su due livelli con al piano terra la zona living, il bagno finestrato con la vasca ed il garage. Ovviamente sui tre lati liberi della casa abbiamo questo bellissimo giardino. Al primo piano troviamo le due camere da letto, il bagno finestrato con box doccia ed un comodissimo ripostiglio. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!